Artist Proof nasce da un'idea di cercare di riempire un vuoto assoluto di un mecenatismo che è ormai scomparso e quindi di affrontare quello che è un mio problema versionale di artista, ed è un problema per molti artisti, per quasi tutti gli artisti, di trovare non solo un referente, ma trovare un polmone, un finanziatore dei propri sogni. Artist Proof, insieme alla mia socia Susanna Zuin, nasce proprio con questo DNA, cioè di provare ad essere degli interlocutori dove non solo l'artista ci racconta il proprio progetto e i propri sogni, ma anche l'azienda, che è quindi il nuovo mecenate, chiede o comunque ci racconta la loro esigenza. Noi cerchiamo di essere un po' il collante, un collante dove facciamo da garante, siamo una garanzia sia per l'artista che per l'azienda, di riuscire a trovare la fusione perfetta dove l'arte non è mai una marchetta e dove invece la parte commerciale non viene stravolta da un entusiasmo che spesso porta a un'astrazione e allontana il consumatore da quello che è il senso del valore della merce. Quindi sono dei progetti artistici, non delle campagne di advertising, disegnate dei progetti artistici unendo l'apporto di un artista, un fotografo, al desiderio, alla visione di un'azienda, se ho capito bene. Noi lavoriamo in due modalità, in due linee parallele. Uno, mettiamo a disposizione a un'azienda degli autori, che possono essere degli interpreti, dei puri interpreti. Quindi parliamo di più che altro di fotografia, in questo caso di video artisti. Quindi un'idea, un concetto, un prodotto viene reinterpretato da un artista. Quindi con uno sguardo, con un linguaggio, cerchiamo di trovare una chiave nuova di comunicare al pubblico, al grande pubblico. nascono dal cuore dell'artista e cerchiamo di modellarli intorno a un sistema invece economico che possa sostenerli e possa soprattutto portarli alla realizzazione. Grazie Matteo. Grazie a te.